Sarà pronto sicuramente prima del decennale del terremoto il Maxi, che sorgerà a Palazzo Ardinghelli, che sarà pronto in estate. La volontà, ha detto il segretario generale della Fondazione Maxi, Pietro Barrea, è di aprirla appunto prima del decennale del terremoto, lo ha detto in occasione di Officina L'Aquila, Incontri Internazionali, la rassegna dedicata al restauro e alla rigenerazione urbana e alla rinascita dei luoghi colpiti dal terremoto, promossa e organizzata da Carza, in collaborazione con Ance Abruzzo, Ance L'Aquila, Ance Chieti, Ance Pescara e Ance Teramo. In estate dovrebbe essere pronto Palazzo Ardinghelli a Piazza Santa Maria Paganica per poter ospitare il Maxi. Le procedure per l'avvio del museo sono iniziate, circa 2 milioni di euro l'anno da qui al 2024 per far vivere il Maxi all'Aquila, ricordato Barrea. Gli aspetti amministrativi sono tutti conclusi, la scadenza è obbligatoria e indiscutibile, al decennale del sisma dovrà essere pronto il Maxi. Il Maxi Aquilano però non dovrà essere soltanto un museo di cose, ha detto Barrea. I tempi direi sono questi, noi abbiamo un obbligo morale che dobbiamo mantenere a tutti i costi di essere pronti e funzionanti per il decennale e ce la faremo. I lavori sono ancora in corso, li sta svolgendo in modo eccellente il Ministero dei Beni Culturali, le realtà territoriali del MIBACT. Proprio l'altro ieri, veramente è una questione di ultime ore, si è perfezionato l'aspetto giuridico-burocratico, cioè la formalità dell'affidamento al Maxi. E noi stiamo lavorando, stiamo lavorando, stiamo lavorando per la programmazione, per aprire il migliore dei modi. Io non dico altre date, ma prima del decennale dobbiamo essere pronti. Il Maxi in realtà per sua natura è un museo che attrae visitatori da fuori, da ogni parte del mondo. Ed è questo uno dei valori aggiunti che vorremmo portare all'Aquila. Il secondo aspetto è che il Maxi non è un museo come ce lo immaginiamo, cioè un posto dove ci sono cose belle da vedere. Naturalmente ci sono pure cose belle da vedere e vogliamo portare all'Aquila cose bellissime da vedere. Ma è un luogo dove si fanno cose. Dove per esempio ci sono tanti ragazzi che fanno il percorso di alternanza scuola-lavoro. Dove per esempio ci sono laboratori in cui bambini ed anziani si coinvolgono nel produrre cultura. Grazie.